Migliaia e migliaia di cittadini delle nostre città, come mi hanno rappresentato anche tutti i sindaci siciliani, stanno vivendo una condizione di terribile sofferenza. Sono costretti e si adeguano alle indicazioni opportunamente date dal Governo nazionale restando a casa, ma non hanno di che sfamare sé e i propri cari. È assolutamente urgente un intervento che superi questo attuale momento terribile di emergenza. Accanto a coloro che godono gli ammortizzatori sociali, accanto a coloro che sono partite IVA, occorre un provvedimento immediato di sostegno di coloro che non hanno nessun reddito, che in questo momento si trovano costretti a casa senza poter neanche alimentarsi. Il terzo settore, le amministrazioni comunali sono impegnate a tamponare questa terribile emergenza, ma non è sufficiente. Occorre subito un intervento del Governo nazionale che semplifichi, che accederi, che renda più ampia l'applicazione del reddito di cittadinanza, ma da subito, proprio da subito, occorre notare attraverso una carta di servizi che possa essere utilizzata da tutti coloro che non hanno altro reddito con una semplice dichiarazione senza complicazioni burocratiche di potersi approvvigionare dei beni alimentari e dei beni di prima necessità.